E' Maria, non ce l'abbiamo fatto, perché ci ha fregato, è uscito da dietro, non si è riusciti a salutarlo perché ha fatto il giro da dietro, c'era un ascensore dietro, è uscito dietro e praticamente ha fatto una diretta su Snapchat dove era in ascensore e stava uscendo di dietro, allora ci siamo usciti, abbiamo fatto il giro ma era già nato lì, però domani, domani sera ci sarà Alvaro Soler, sempre lì, a far foto, e siccome adesso sappiamo che l'uscita è dietro, lo aspettiamo di dietro. Raga, è pieno di gente che sta giocando a Pokémon 2. Stai, ti falli, sarà invece intelligente te, te cosa fai invece, lavori, studi? Lui è noto che era nato. Eh sì, sarà un imprenditore già, non si fa giocare a quel gioco, intanto esce di casa e non sta otto ore davanti al computer a fare un caso. Brava Maria, insegno, ti va. Io infatti sono fuori e sei su Periscope, cioè esci con gli amici e sei su Periscope. Stai divertendo? Eh, vabbè, oh, grandissimi. Esco e vado a Fica, sto aspettando una tipa, vabbè. Anche dove sono aspettato la tipa? Tra l'altro, che ore sono? Sono quasi le 7 di sera, cosa vai? C'è una fuori con lei. Adesso mi sta cambiando la batteria. Eh, io infatti ho dovuto prendere una seconda di sport. Aperitivo, quanti anni ha? 18, hai già i soldi per andare a prendersi l'aperitivo o paga il papi? Dicchiamo le cose come stai. Adesso ti... Pago io. Quest'ho di da nonna allora, non ne fai. A vero, c'è. Ti ho impagliato, tra l'altro. C'è. Sì, lavoro nelle discoteche, no? Un altro PR. Cioè, ce ne sono veramente, veramente troppi. Basta, PR. C'era una meme bellissima su questo. C'è uno per terra che sta male. Aiuto, aiuto, serve un dottore, serve un dottore. Tu cosa fai? Faccio il PR. Tu cosa fai? Faccio il PR. Tu cosa fai? Faccio il PR. Raga, non ci sono dottori. Tutti PR. Dico che è un po' di merda perché ha condizionato la vita di tutti. No, veramente non ha condizionato niente. Perché? Quelli grandi sono fan di Pokémon da quando li hanno creati. Quindi è una passione che si potrae a lungo. Quelli nuovi, almeno sono di casa. Oh, guardate, guardate. E addio perché non si è riusciti a farci la foto. Niente Alvaro. Maria, se vuoi ti faccio una foto io, poi te la mando su Instagram. Può essere. E' un bidu. Certo, la standa. Ah, ragazzi, domani foto con Alvaro. Domani c'è Alvaro Soler. Come si dice, Alvaro o Alvaro? Eh, non so. Mi lo usavo, che voglio. Ebo Levi. Ebo Levi. Grazie a tutti.